ciao a tutti amici della buona cucina benvenuti su basilico channel oggi facciamo una ricetta davvero squisita si tratta dello sfornato alla siciliana usare le patate che metteremo come base e dopo aggiungeremo della buonissima caponata adesso prepariamo la caponata e dopo insieme facciamo lo sfornato buona visione se non l'avete fatto ancora iscrivetevi attivate la campanella altrimenti ci perdiamo e ci vediamo dopo per gli ingredienti grazie a tutti 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 grazie a tutti